Salle giochi, centri scommesse e sale slot delle province di Bari e Bat passate al setaccio negli ultimi giorni da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Bari in collaborazione con il personale specializzato dei monopoli di Stato e delle dogane. Il bilancio che ha interessato 178 esercizi commerciali e di 8 denunce in stato di libertà, 12 violazioni amministrative rilevate, sanzioni per 24 mila euro e tre sale con relative apparecchiature sottoposte a sequestro. Sequestrato anche un cosiddetto totem, ovvero un terminale da gioco collegato a internet su siti esteri. L'attività rientra in un più ampio progetto finalizzato a contrastare il riciclaggio di denaro sporco da parte dei clan e a verificare il rispetto delle norme poste a tutela dei minori e del possesso dei titoli autorizzativi per gli apparecchi elettronici da intrattenimento con vincite in denaro. Le denunce sono a carico di tre titolari di sale giochi di Bicelli e tre di Bari, una di Noce e un'altra di Monopoli. Tutti dovranno rispondere di esercizio abusivo dell'attività da gioco o di scommessa. A Bari i carabinieri hanno scoperto inoltre che tre attività formalmente adibite a copisterie e ad autorimessa erano state trasformate in centri abusivi di raccolta scommesse per via telematica attraverso l'utilizzo di pc collegati su bookmaker esteri privi di qualsiasi titolo autorizzativo in Italia. I locali e le apparecchiature sono stati sottoposti a sequestro avviando tramite l'agenzia delle entrate le procedure per il recupero dell'imposta evasa. L'attività repressiva dei militari dell'arma è costantemente effettuata anche per dare una risposta all'allarme crescente legato alla diffusione del gioco tra i minori e alle conseguenze negative dei videopoker per le famiglie che sempre più spesso si rivolgono ai carabinieri per chiedere aiuto a causa dei loro congiunti che sperperano ingenti somme di denaro a causa delle macchinette. Un business particolarmente appetibile per la criminalità organizzata che oltre ai notevoli margini di guadagno utilizza queste attività come detto per il riciclaggio di denaro sporco.